Ciao, sono Alessia, frequento il liceo artistico di Venerum Cultura. Ho scelto questa scuola perché da sempre le mie passioni sono rivolte a tutto ciò che riguarda i linguaggi artistici, l'arte in generale ma anche la manipolazione, la creazione e la sperimentazione. Soprattutto sono particolarmente interessata dall'utilizzo delle nuove tecnologie e di come queste possono essere utilizzate per realizzare progetti grafici e di design. I primi due anni, le materie di indirizzo sono discipline grafico-pittoriche, discipline geometriche, discipline grafico-scultorie e tanti laboratori artistici. Infatti, lo studio teorico delle materie di indirizzo è sempre affiancato ai laboratori pratici, che caratterizzano il nostro liceo artistico. Dal terzo anno si può scegliere tra l'indirizzo di grafica e l'indirizzo di design. L'indirizzo di grafica si focalizza più sugli aspetti della progettazione e della produzione grafica, mentre l'indirizzo di design si basa sugli aspetti progettuali e del lavoro. Inoltre, abbiamo a disposizione il laboratorio MEC innovativo, con i migliori software che ci permettono di approfondire le nostre conoscenze di progettazione multimediale. Ad esempio, per un Photoshop, per il foto di tocco e progettazione di grafica in generale. Questo è quanto riguarda l'indirizzo di grafica. Per l'indirizzo di design, invece, abbiamo software come autica delle strumentazioni avanzate, come lo stagio P&D, che ci consentono di progettare un modello per realizzare un prototipo con stampanti in P&D o direttamente nei nostri laboratori apprezzati. Dopo l'esame di Stato, posso scegliere di entrare nel mondo del lavoro, come progettista in diversi ambiti, per esempio della moda, dell'allenamento, del gioiello, come operatore audio e video, o ancora nel campo del web, si può lavorare come grafico o web designer, oppure iscriversi al percorso universitario più adatto all'unità di noi.